il circuito è relativamente giovane perché è partito comunque l'anno scorso tu l'hai un po' seguito l'anno scorso di più perché ho partecipato alle tappe di piazza di siena e poi alla finale quest'anno purtroppo per altri impegni l'ho seguito meno c'erano i miei compagni di squadra molto validi che hanno fatto delle ottime prestazioni abbiamo già deciso tutti assieme che io montavo qui nella finale quindi è un bel circuito ti dà la possibilità di fare una gara un po' diversa rispetto alle solite quindi una bella esperienza ecco il vostro team è quarto ad oggi ci sono stati varie tappe tu come dicevi non non sei stato presente però comunque sarai presente a questa finale hai seguito un po' i tuoi compagni di squadra come ti sono sembrate le loro performance hanno sempre fatto delle ottime performance competitivi Filippo ne ha partecipato a due o tre se non sbaglio tre Emilio è stato molto competitivo la squadra è comunque messa bene dobbiamo pensare al risultato di squadra di sabato e quindi cercheremo di salire sul podio sicuramente ecco ripercorriamo un po' quello che ci aspetta durante questi giorni perché sappiamo che sono tre le competizioni la prima oggi alle 13.30 mentre la seconda sarà domani in serata verso le 19 e poi sabato forse sabato a pranzo tarda mattinata c'è una prova tempo quella di oggi anche domani e poi sabato durante la finale nella gara mista barrage e quindi si giocherà tutto sabato ecco però queste due gare che precedono la finale servono per accumulare punti assolutamente quindi sostanzialmente oggi c'è un po' uno spartiacque benissimo Riccardo io intanto ti ringrazio e ti lascio appunto come dicevamo prima ai tuoi impegni rimarrei con con Filippo per parlare un po' di tutto l'anno un grande in bocca al lupo per questa esperienza grazie mille a più tardi ciao ciao Filippo eccoci nuovo qui buongiorno a tutti buongiorno a te sarà la prima gara di apertura quella un po' per per rompere il ghiaccio quella di oggi tu ti presenterai appunto in squadra con Riccardo Pisani con il tuo cavallo Cappuccino il cavallo più fashion che ci sia cioè è veramente uno spettacolo per gli occhi com'è da montare ho deciso di presentare Cappuccino a questa finale d'Italia in Champions Tour qui a Fiera Cavalli Verona Cappuccino un cavallo incredibile uno stallone di dieci anni che oltre alle doti estetiche che tutti possono vedere ha veramente grandi doti tecniche di alto livello e spero veramente che qui possa esprimersi al meglio peraltro Sara questa tappa finale sarà una tappa impegnativa poiché le prime due prove saranno sull'altezza di un metro e quarantacinque in un'arena difficile cioè di Coppa del Mondo e invece la finale di sabato sarà un metro e quarantacinque o metro e cinquanta quindi sarà un bello sport da vedere anche per il pubblico Cappuccino tu l'hai già impegnato in gare di questa altezza? Sì Cappuccino quest'anno ha vinto un gran premio internazionale Longines Ranking di un metro e quarantacinque ha partecipato al suo primo gran premio di un metro e cinquanta e ha vinto la gara speciale della sei barriere superando il verticale finale di un metro e novantadue quindi la forza non gli manca dobbiamo semplicemente incrociare le dita e sperare che sia il nostro weekend Ma avete già parlato tu e Riccardo della tattica di gara? Sì abbiamo già parlato io opterò per cercare di ottenere grandi percorsi netti tutti i giorni senza pensare al tempo e quindi concentrarmi solo sul risultato di squadra e non sul risultato individuale. A lui invece lasci la parte del tempo? Diciamo che Riccardo presenta una cavalla molto veloce a questa finale quindi lui potrà pensare di più al tempo e io cercherò invece di pensare alle penalità. Ecco Talent Champions Tour quest'anno si è sviluppata in quattro tappe possiamo dire quindi la prima quella dell'Arezzo Equestrian Center dal 15 al 17 aprile la seconda quello durante l'Oxio di Roma Piazza di Siena dal 26 al 28 maggio poi l'Orsis Riviera Resort dal 22 al 24 luglio quella quella della tenuta Ambellia che però ricordiamo non non dava punti quindi non c'era una classifica aggiornata dopo la tenuta Ambellia la classifica ad oggi che fa fede è quella dopo la tappa dell'Orsis Riviera Resort quindi quella di luglio ricordiamo siete quarti. Tu hai partecipato ad alcune delle tappe precedenti? Sì io ho partecipato a tutte le tappe tranne la prima quella della Red Sequestrian Center e alla tappa di Piazza di Siena abbiamo ottenuto un buon piazzamento alla tappa di Cattolica all'Orsis Riviera Resort il team goal Spanavinto e alla tappa di tenuta Ambellia a Catania in Sicilia siamo arrivati secondi quindi nonostante non desse punti in ogni caso è stato motivo di orgoglio di prestigio partecipare ed essere a podio ed essere quarti su 12 squadre penso che sia un ottimo risultato e cercheremo di alzare la nostra posizione in classifica in questi giorni. Ricordiamo vi siete alternati in vari cavalieri la squadra non è composta solo da voi due ma abbiamo comunque altri nomi cosa ne pensi di questo nuovo format queste collaborazioni fra cavalieri? È molto interessante potersi interfacciare con i nostri colleghi che normalmente se non nelle coppe delle nazioni quindi delle partecipazioni a squadre per la federazione italiana sport equestri normalmente sono tra virgolette nostri avversari nel senso che non c'è una brutta competizione c'è sempre una sana competizione ma non c'è mai il lavoro di squadra e quindi poter partecipare con i nostri colleghi a queste tappe dell'Italia in Champions Tour è molto interessante possiamo imparare molto anche noi dai nostri colleghi ed è anche un'occasione comunque per girare l'Italia perché abbiamo visto tappe appunto da Cattolica fino alla Sicilia sì assolutamente diciamo che è un circuito che cerca di valorizzare tutto il territorio italiano per quanto riguarda il salto ad ostacoli ecco io vorrei sapere se ci fossero i patron dietro al nome di questa squadra quindi si chiama Goldspan Equestro Team volevo sapere ecco vedo proprio Emanuele Laiatici per Goldspan magari ci raggiungerà anche Riccardo Volpi per la parte Equestro dovrebbe essere qui in giro Emanuele intanto partiamo con te innanzitutto benvenuto benvenuti a voi e buongiorno ecco tu hai seguito un po' le performance dei cavalieri che hai selezionato? no no più che seguito ho sofferto durante tutte le tappe sono stato presente a tutte le tappe eccetto quella in Sicilia e ho veramente sofferto perché ogni volta abbiamo cercato di spingere al massimo per piazzarci in buone posizioni per la finale e pian piano ce l'abbiamo fatta risalire dopo un inizio non perfetto sei una guerrita a bordo campo che incita? no ho contegno lo profile in silenzio dietro le quinte però magari se ne parla soffro in silenzio ecco il team manager ricordiamo è Danilo Scagnoli che per questa finale ha puntato su Filippo Bologni e su Riccardo Pisani cosa ne pensi di questa scelta? beh per la finale anche visto l'impegno che Filippo ha avuto durante tutto il percorso e durante tutte le altre tappe era sicuramente meritata la sua partecipazione e poi Riccardo è il nostro cavaliere di cui siamo main sponsor e quindi siamo molto felici che abbia potuto partecipare alla finale quindi ottima squadra la gara ricordiamo a che ora partirà? alle 13.30 di quest'oggi quindi venite a vederci certamente poi comunque la trasmetteremo ovviamente qui in diretta dalla fiera dal nostro padiglione dalla nostra Goldspan Experience Area e per tutti coloro che vogliono seguirci c'è comunque anche lo streaming avete fatto un grosso lavoro quest'anno con Goldspan? sì assolutamente dall'esperimento dello scorso anno quest'anno invece siamo cresciuti per cui dal nostro sito Goldspan Italia saranno trasmesse tutte le dirette di tutte le gare del padiglione 7 comprese l'Italian Champions Tour per tutti i giorni di fiera quindi chi non sarà in fiera potrà seguirci direttamente da lì invito tutti a fare il tifo per la nostra squadra il Goldspan e questo team e a soffrire in silenzio insieme a me e tra poco si parte io intanto quindi ringrazio tutti i nostri ospiti presenti con noi anche Riccardo che è andato via un pochino prima solamente grazie e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e torniamo tra pochissimo di nuovo in diretta si parte con la prima prova di Italian Champions Tour altezza 145 al gara a tempo grazie a voi a presto grazie